Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale e benvenuti a questo nuovo episodio Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi una video recensione Scopriamo insieme di quale prodotto dopo la sigla Ed eccoci in modalità recensione e come avrete già visto oggi parleremo del Fatip Classic Gentile Allontano un po' la webcam e vado a spostare la scatola Scatola che abbiamo già visto e ho già mostrato bene nel video unboxing Quindi vi invito a vederlo e vi lascio il link qui in alto Spostiamoci invece sul rasoio Guardate sempre, meraviglioso Un rasoio in questo caso nella versione gentile Quindi Closet Comb a pettine chiuso Un rasoio made in premana Nel video ve l'avevo già fatto vedere in tutte le sue componenti Ma oggi andiamo insieme a vedere la video recensione Quindi iniziamo subito con il nostro fidato calibro Andiamo ad accenderlo Ok, è già su 0 Quindi lunghezza complessiva del Fatip dal centro della testa Alla fine, alla fine del manico 85.8 85.7 Ok Altezza invece della testa 8.3 Come vedete non è una testa ingombrante E è molto molto funzionale per quando si va a lavorare nella zona dei baffi Ampiezza della testa Ampiezza della testa invece di 41.78 Vediamo 41.8 Sì, è indeciso anche lui 41.8 Andiamo a svitare Il manico Sapete che ha una vite molto lunga Circa una decina di giri Iniziamo a guardare il manico Manico dal diametro di 10.6 Nella parte centrale Che va ad allargarsi leggermente A 12.6 Nella parte finale dove c'è il nottolino E va invece a stringersi Nella parte più piccola Che si avvicina nel suo collo Diciamo vicino al pettine A 7.1 Non misuro la profondità Del 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 perno Della vite Perché stiamo parlando di un manico passante Vediamo se riesco a farvelo Eccolo lì, vedete? Eccolo lì, ora si vede bene Eccolo lì Quindi è assolutamente inutile misurarla Per i più curiosi vado a misurare invece Questo diametro Questo diametro interno 6.8 Quindi quanto è largo Questo diametro E L'imboccatura Della Della vite Scusate, ho visto Meno 0.3 Meglio Resettarlo Ok Di 4.0 Questo era il manico Prendiamo invece adesso la testa Il pettine Pettine molto molto sottile Anche se comunque questo spessore Adesso ve lo mostro 6.1 Diametro sottile Ma comunque vediamo che Ha un bello spessore Un bel Bell'importante Per il nostro pettine Pettine che Va a finire con queste due Con questi due baffi Che sia Sono un po' più accentuati Verso la fine Solco interno Comodissimo Per la pulizia del manico Per la pulizia Scusatemi Dei peli Da sotto la lametta È di 33 33 su una Dimensione totale Pardon Mi scivola oggi Di 42 Quindi 41 Copre quasi tutta la lunghezza Come d'altronde si vede Il solco Va a Coprire quasi tutta la lunghezza Del nostro pettine Poi con i tre I tre posti Per I ballets E il perno Ve lo faccio rivedere da vicino Come vedete c'è un piccolo cambio di colore qui Nella parte superiore È cromato Nella parte inferiore La cromatura se ne sta un po' andando purtroppo Testa comunque molto molto sottile Vediamo quanto è 3.6 3.6 Quindi Una testa che può essere Anzi è sicuramente Super agevole Da maneggiare E ovviamente Super Maneggevole Vite Come vi dicevo Una decina di giri Lo vedete bene nel video unboxing Ma andiamo a Prendere la nostra Amica bilancina E andiamo a vedere I pesi Quindi Zero Peso completo Senza la metta Mi raccomando Senza la metta 69 grammi Peso del solo manico Se riesco a svitarlo 36 grammi Peso Della testina 33 Quindi Un leggero Sbilanciamento Sul manico Ma di pochissimi grammi Di 3 grammi Infatti è un rasoio Che io ritengo Molto molto ben bilanciato Vediamo insieme Il punto di Equilibrio Che è a questa altezza Vediamo Ve lo giro Ok A questa altezza Quindi ottimo Per far Lavorare Il peso Della testina In base alla vostra Impugnatura Andiamo adesso A prendere La lametta Andiamo a Smontare Nuovamente Il nostro Fatip Classic Gentile Andiamo a prendere La nostra Lametta Di riferimento Per gli unboxing Quindi una lametta Pulita Andiamo a Metterla Nella testa E Vedete C'è un piccolo Gioco Non un gioco Importante Poco gioco Diagonale Cerco di avvicinarmi Ancora di più Quindi c'è Un piccolissimo Gioco Principalmente Da destra A sinistra Pochissimo In senso Diagonale E Adesso sto premendo I bordi Della lametta Vedete che però Un pochino Va a Influire Lo vedete Dall'esposizione Qui in alto Così è tutta Bassa Così vado a Spingere in alto Mi avvicino Ulteriormente Tutto in basso Tutto in alto Quindi un po' Di gioco Ce l'ha Vado a mettere Il Pettine Per farvi vedere Poi l'esposizione Quindi pettine Inserito Manico Come vedete Io l'attendo E poi vado Ad avvitare Il manico La lametta Sporge Leggermente Dai bordi Leggermente Vedete Si sente Con l'unghia Si vede Da sopra Vedete Sia Di qui Che Di qui E c'è Una buona Esposizione Della lametta Vediamo Se riesco A farvelo Vedere Meglio Eccola Lì Vedete Quindi Una buona Esposizione Perché è un Rasoio Comunque Che sa Andare In Profondità Per Un consiglio Che vi do Per andare A ridurre Il gap Grazie al fatto Appunto Che la lametta Esce Un attimo Dai bordi Potete andare A serrare Ma non Del tutto Il Manico E vedete Che Facendo Attenzione Potete andare Vedete che qui Cambia l'esposizione Potete andare A sistemarla Leggermente In modo Da Andare A Colmare Quel piccolo Movimento Quel piccolo Gap Che potrebbe Crearsi A fronte Di Quel piccolo Gioco Che c'è Tra la Lametta E La testa Torniamo Come sempre A prendere Il nostro Amico Calibro E stavolta Guardiamo L'inclinazione Ok Quindi parto Come sempre Dall'alto Appoggiando la testa E scendo Delicatamente Ok Qui Inizio a prendere Rifaccio Scendo Delicatamente Ok Qui prende 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 Basta Ultimo giro Testa Prende 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 Barra Di sicurezza Quindi facile Da regolare Perché È Quasi immediato Come vedete Cerco di prenderlo Da in fondo È un angolo Bello ampio Subito Eccolo lì Quindi attenzione Perché se lo usate In questo modo È solo la barra Di sicurezza Che va a lavorare Quindi non vi fa La barba Ma c'è Un buon gap Un buon gap Ampio E quindi Questo è L'angolo Di utilizzo Di questo Fatip Dico di questo Fatip Perché come sapete Fatip Ha fatto anche La versione Slant Chiamata Lo storto E ovviamente Quello essendo Uno slant Ha un altro Angolo Un bellissimo Rasoio Che mi piace Mi piace usarlo Ha anche Un non so che Di vintage Oltre che A essere Comunque Un prodotto Un ottimo Prodotto Di artigianate Artigianale Italiano Quindi Anche questo Ha sicuramente Il suo perché Ve lo faccio Ammirare ancora Un attimo Con il suo grip Ecco Non vi ho parlato Del grip Il grip è buono Non è Eccelso Non è il migliore Che abbia mai provato Ma è buono Qui nel nottolino È ancora meglio Perché Queste Queste Lavorazioni Molto fitte Molto pronunciate Rendono impossibile Fa sì che sia impossibile Che la mano scivoli Anche se Non è Poi Così piacevole Come invece È il manico Il manico Appunto Questa lavorazione Con questi solchi Vediamo È armato Quindi Vediamo se così Si vedono Ok Sì Vedete che ha Questi solchi Che rendono Sì Buona E buono Il grip Ma ogni tanto Soprattutto In verticale Potrebbe Scivolare Pulitevi sempre Le mani Asciugatele Sempre E non avrete Questo tipo Di problema Vado a togliere La lama In modo da poterlo Maneggiare Senza problemi Che dire Un ottimo rasoio Un rasoio Anche economico Un rasoio Che mi piace molto Provatelo E fatemi sapere Cosa ne pensate Direttamente Qui sotto Nei commenti Ed eccoci Dopo aver visto insieme Questo bellissimo Fatip Classic Con testino Gentile Fatemi sapere Cosa ne pensate Direttamente Qui sotto Nei commenti Non mi resta Che ringraziarvi Per essere stati Con me Fino ad adesso Ricordarvi Che se vi è piaciuto Questo video Potete iscrivervi Al canale Attivare la campanella E lasciare un mi piace Seguitemi anche Sul mio profilo Instagram Rasatura Tradizionale Punto it Dove potrete Trovare ogni giorno Delle immagini Di set da barba Abbinate ad un libro Infine Per chi volesse Approfondire Leggendo Qualche articolo Il mondo Della rasatura Tradizionale Vi aspetto Sul mio sito web www.rasaturatradizionale.it E noi ci rivediamo Ogni mercoledì E ogni sabato Alle 10 Solo su youtube Ciao Ciao Musica 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 Musica